La fibromialgia è una patologia che causa dolore generalizzato, diffuso e persistente, causa inoltre rigidità muscolare, affaticamento, disturbi del sonno, della concentrazione della memoria e dunque un abbassamento del tono dell'umore. In Italia colpisce 2 milioni di persone, per lo più donne adulte. L'origine è sconosciuta, probabilmente fattori genetici e ambientali influenzano il processo cerebrale all'origine dello stimolo doloroso. Infatti in chi soffre di fibromialgia la soglia del dolore è più bassa della norma in seguito ad una sensibilizzazione cerebrale agli stimoli nocicettivi. Non esistono strumenti di prevenzione allo stato attuale se non quella di mantenere uno stile di vita regolare facendo attività fisica e mantenendo regolare il ciclo del sonno. Il trattamento terapeutico prevede l'utilizzo di farmaci analgesici, mio rilassanti ed antiriepressivi. La diagnosi si arriva tramite l'analisi della storia clinica basandosi sugli ultimi tre mesi e se si riscontra positività di almeno 11 dei 18 punti sensibili, i cosiddetti trigger points e se si riscontra anche negatività agli esami di laboratorio e strumentali per patologie reumatiche. Di recente la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità le sei mozioni presentate da tutte le forze politiche per considerare la fibromialgia una malattia cronica invalidante per cui il governo si impegna e dovrebbe impegnarsi a riconoscere la patologia come tale. Il prossimo step sarà inserire la fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza portando agevolazioni e benefici a chi ne ha affetto ma a quel punto cosa cambia per i pazienti affetti? Tramite una commissione medica che stabilirà il grado di invalidità su richiesta del medico curante la paziente potrà poi richiedere il riconoscimento della disabilità presso l'IMS o altre istituzioni competenti ottenendo dunque benefici anche economici come la pensione di invalidità o l'indennità di accompagnamento. Le spese per diverse visite specialistiche inoltre potranno essere coperte dal Servizio Sanitario Nazionale mentre sul fronte lavorativo chi soffre di fibromialgia accertata ha dei diritti speciali come la protezione contro il licenziamento discriminatorio. Dietro questa importante decisione politica c'è il mondo dell'associazionismo dei malati di fibromialgia che finalmente non vengono più considerati soltanto depressi ma è un primo passo per acquisire i loro diritti sicuramente si dovrà lavorare per l'aggiornamento dei protocolli terapeutici esistenti e per la definizione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale un PDTA che garantisca diagnosi e cure e che sia chiaro ed uniforme a livello nazionale e regionale.